Il Montecano Film Festival Domani è ancora una giornata molto importante perché avremo alle ore 17 qui al Teatro delle Mariette una masterclass di cinema straordinaria con dei grandi registi, grandi attori, grandi moderatori e poi vi diremo tra poco chi sono. Domani sera abbiamo una grande anteprima. Allora, questione di calma, anteprima mondiale di Edoardo Falcone, il film è stato finito di montare proprio qualche giorno fa, uscirà in sala il 7 marzo, quindi noi abbiamo visto degli spezzoni però sarà una sorpresa per tutti. No, poi è un'ottima occasione, abbiamo molto pubblico della Liguria, verranno volentieri perché non pagano il biglietto, quindi sempre sono occasioni che vanno sfruttate in maniera... No, per dire... Grazie. 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 Grazie.